Insegnante di scienze precario impiegato in diversi istituti professionali del barese arrotondava lo stipendio spacciando droga. Lo hanno scoperto gli uomini della guardia di finanza che lo hanno arrestato. Si tratta di un 47enne residente a Salerno ma domiciliato a Giovinazzo. I finanzieri di Bitonto sono arrivati a lui attraverso un'attività investigativa svolta con appostamenti e pedinamenti a Molfetta, il comune preferito dall'uomo come piazza di spaccio. Qui il docente è stato sorpreso a bordo della sua auto mentre si apprestava a effettuare le consegne della droga. Durante la perquisizione personale i militari hanno rinvenuto addosso all'uomo un panetto di ascisce e 5 grammi di marijuana, nascosti rispettivamente nei pantaloni e in un borsello che il docente aveva con sé. Per gli investigatori il professore non spacciava al minuto se non in minima parte, piuttosto veniva in contatto con persone alle quali vendeva interi panetti di ascisce. La successiva perquisizione effettuata al domicilio dell'insegnante ha permesso ai finanzieri di rinvenire ulteriori 13 panetti di ascisce ben nascosti in camera da letto. In totale un chilo e 400 grammi di ascisce e 5 grammi di marijuana sono stati sequestrati al docente assieme all'auto e a un bilancino di precisione.